Dopo la lunga sosta il volley soverato torna in campo, lo fa nel turno infrasettimanale di mercoledì 21 febbraio, si va a Montecchio, una trasferta sicuramente insidiosa per un soverato che però ha potuto ricaricare le batterie, come si suol dire, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Sicuramente, forse per noi è stata anche troppo lunga la pausa, era meglio, magari abbiamo uno step più avanti, però l'abbiamo già detto che questo è il calendario. Andiamo a Montecchio, una squadra che siamo consapevoli che ha fatto il 90% di punti in casa, perciò è una squadra che veramente in casa ha dato del filo da torcere a tutti, sappiamo che è molto ben organizzata nella fase difensiva, l'abbiamo studiata, ci stiamo preparando. E come hai detto giustamente, mentalmente e fisicamente abbiamo recuperato parecchio. Il periodo lungo di sosta è servito anche per l'inserimento delle nuove, con la palleggiatrice e il libero, che così si sono potute inserire al meglio per oleare i meccanismi ulteriormente di questa squadra che si deve preparare a un grande rush finale di stagione. Sicuramente, perché noi adesso non riposeremo più, ma giocheremo praticamente sempre tra domenica e mercoledì, effettivamente le nuove hanno avuto tempo per inserirsi, devo dire che hanno avuto, sia subito, l'abbiamo vista anche in campo, c'è un bel approccio, un approccio sia a livello psicologico molto buono, ma anche a livello tecnico. Adesso si sono integrate, perciò abbiamo due moduli diversi, abbiamo tante soluzioni da poter utilizzare, perciò benvenga questa situazione che ci potrà dare grossi frutti poi in vista della finale del campionato, quando le partite saranno decisive come quella dei play-off. Nell'ultimo turno, prima della sosta, Montecchio è uscito sconfitto dal campo di Caserta per 3-2, come diceva lei, coach Barbieri è una squadra che praticamente ha conquistato gran parte dei suoi punti in casa. È una trasferta scivolosa, se così si può dire, quindi va affrontata con la massima attenzione, è una squadra imbottita di giovani che però, proprio per questo, ha anche grande euforia, grande forza. Sì, loro poi hanno, come abbiamo già detto, hanno veramente una grossa diversità, non di rendimento, i punti sono quelli tra casa e fuori, e questo fa di sì che loro hanno veramente una determinazione in più. Quando giocano in casa, come hai detto giustamente, hanno diversi giovani molto interessanti, molto futuribili, perciò ci aspettiamo una squadra molto tosta, in tanti sono caduti. Noi, è innegabile dire che a questo punto, in vista, se vogliamo stare nei play-off, dobbiamo portare a casa punti. Ha potuto far da spettatore nelle ultime due domeniche, prima osservando i risultati dell'ultima giornata prima della sosta e poi nella partita di domenica scorsa, la finale di A2 di Coppa Italia. Grande lotto in tutte le partite con le squadre di vertice, indice del fatto che lì in vetta c'è tanto equilibrio e quindi ci sarà da sudare molto. Sì, sì, facciamo i complimenti a San Marignano, ma anche a Mondovì, perché comunque arrivare a giocare una finale non è mai semplice. È stata un'ottima partita, due squadre veramente in palla che giocano un'ottima pallavolo, perciò complimenti a loro.